L'impatto che un giovane prete ha dopo aver passato tanto tempo in Brasilia, in particolare in Amazzonia, venendo qua in Italia e trovando una realtà così diversa e comunque con qualche sorpresa, come lei diceva prima, con tanti bambini che non pensava. Certamente sono due mondi completamente diversi per impatto sociale, per culturale, storico, sono in realtà completamente agli antipodi per certi aspetti. Quello che ho trovato di piacevole, che mi ha aiutato nel ritorno, è trovare un piccolo comune qui della nostra Liguria, della nostra provincia savonese, che ha, rispetto a come io avevo un po' lasciato, parecchi bambini e giovani che ruotano nell'ambito della parrocchia. Questo certamente per me è un buon benvenuto, mi aiuta al rinserimento. Da un punto di vista pastorale, quali sono le differenze maggiori? Qui sono domande da 100 miliardi di euro. Differenze pastorali, così... Certamente noi abbiamo una chiesa antica, che ha tante tradizioni e per molti versi forse anche un po' più sedentaria, più ferma, è ancora molto legata al discorso dei preti, la parte istituzionale, le strutture, la parte clericale, tutto dipende un po' da se c'è il parroco.